Malvezzi quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Dopo le scelte discutibili di politica monetaria della BCE e di Christine Lagarde, in un'intervista Philip Lane al Financial Times, economista della BCE, che ha fornito un'interessante lettura degli eventi fin qui accaduti, delle prospettive sulle azioni future della BCE, nonché sulle conseguenze all'economia dei prossimi mesi, evidenzia una serie di problemi. Sulla politica di bilancio degli Stati membri, che è un tema molto sensibile per l'Italia e il nostro Paese, Philip Lane torna a parlare del tema centrale, cioè la sostenibilità del debito e la necessità di tornare ad una normalità, evitando gli stimoli fiscali eccessivi e l'austerità che rallenta l'economia. Fermo al mondo. Cioè, su uno dei più autorevoli giornali mondiali in materia di economia, qualcuno al Financial Times comincia a dire che bisogna, uno, tornare alla normalità, due, smetterla con le politiche di austerità che rallentano l'economia. Voi capite che è, come dire, una sorta di rivoluzione copernicana, rispetto alle cose che abbiamo letto e sentito negli ultimi, direi, 15-20 anni. Lane non si fa mancare la solita tirata d'orecchia contro i Paesi con il debito eccessivo, per i quali ci deve essere, secondo lui, un quadro di regole in grado di guidare i governi nella riduzione continua e costante del rapporto debito-PIL, e qui è il solito tema leitmotiv neoliberista, in modo da poter avere spazio disponibile in occasione degli shock esterni. Cosa significa? Vuol dire che se tu sei molto indebitato, ti arriva uno shock esterno, una pandemia, una guerra, per fare degli esempi, e tu, a quel punto, vai ancora di più in crisi perché non hai più ambiti di manovra. Lane sa che decidere di accelerare, fidandosi delle buone condizioni della strada, visibili dallo specchietto retrovisore, è un'operazione che può presentare dei rischi. Insomma, non è prudente presentarsi in curva o davanti a un muro ad una velocità troppo elevata. Ma quello che è importante è che questi articoli, pur se, diciamo così, ripetono un cliché, un leitmotiv dell'economia, insomma, la visione capitalistica del fatto che si vive troppo debito e via discorrendo, ebbene, a me interessa la frase normalità e necessità di tornare a togliere l'austerità. Ecco, mi pare che siano degli sprazzi di moderato buonsenso che io vedo in un delirio collettivo. Buona economia umanistica. Malvezzi quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.